La situazione del commercio a Pescara, anche questi orari notturni per quanto concerne i negozi soprattutto nella zona del centro, ci sono visioni diverse e cosa è venuto fuori? Il prolungare dell'apertura dei negozi se non viene accompagnato da una giusta programmazione, cioè se all'interno del centro commerciale non ci sta attività attrattiva diventa difficile far aderire i commercianti e tenere aperti i negozi fino a mezzanotte. Quindi questa questione è stata sperimentata, è stata fatta la prima edizione, io credo che questa sera non si ripeta, il primo di agosto iniziano i saldi, allora il weekend che va dal 31 e 2, cioè venerdì, sabato e domenica, debba essere un'attività che venga promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni di categoria, la Confcommercio in primis, perché si dica a tutta la città, non solo la città di Pescara ma all'interland pescarese, all'area metropolitana, che nel centro commerciale a Pescara sono iniziati i saldi, che ci sta attività di intrattenimento, che il parcheggio per quanto riguarda venire a parcheggiare a Pescara non si paga nulla in questi tre giorni, quindi parcheggio gratuito, che ci si mette a disposizione anche con i servizi del bus navetta, perché se uno vuole venire da Chietiscale e non vuole portare la macchina a Lupulman, oppure da Francavilla Sud, oppure da Montesilvano Colle, può venire al centro commerciale, cioè in pratica metteremo la prossima settimana intorno al tavolo dei soggetti che sono bravi a promuovere il marketing dei saldi per la città di Pescara, così come fanno nei grandi centri commerciali. Abbiamo chiesto anche la posizione dell'occupazione solo pubblica o fuori negozi, perché quando ci saranno i saldi ci sarà gente che vuole entrare, quindi bisogna distanziare e creare la disciplina dell'ingresso, quindi possiamo mettere i tavolini, la prossima settimana sarà un tavolo operativo, in modo che il centro commerciale di Pescara diventi un luogo da visitare.